in aula la seduta solenne per il giorno della memoria un appuntamento caratterizzato quest'anno dall'episodio che ha coinvolto un ragazzo di 12 anni a campiglia marittima mazzeo nella nostra società messaggi sbagliati sostegno economico del consiglio regionale per l'educazione musicale l'aula ha varato un contributo di 150 mila euro che comprende anche le risorse per le bande musicali i consiglieri si sono espressi in maniera unanime la brutta vicenda di campiglia marittima insegna l'impegno contro l'odio razziale in particolare quello rivolto agli ebrei deve continuare quanto accaduto a un ragazzino di 12 anni presso di mira da due giovani poco più grandi in quanto ebreo ha fatto da cassa di risonanza alla seduta solenne del consiglio regionale per il giorno della memoria l'episodio è stato stigmatizzato dall'aula e tutti i consiglieri hanno ribadito la necessità di non far calare l'attenzione episodi come questo ci dicono che ci sono messaggi sbagliati e deviati che ancora oggi si erpeggiano nella nostra società ha detto il presidente dell'assemblea toscana antonio mazzeo al suo fianco michele sarfatti che ha ricevuto il pegaso ci vuole uno sforzo collettivo per estirparli o almeno per ridurli ai minimi termini ha detto lo storico è importante esserci nel giorno della memoria perché quello che è accaduto non accada mai più sembra tutto così scontato ma basta vedere quello che è accaduto soltanto pochi giorni fa a campiglia marittima un ragazzo preso di 12 anni preso a calci e sputi soltanto perché ebreo e allora penso che il nostro lavoro di ricordo ma anche di racconto alle ragazze ragazzi più giovani specialmente nel tempo in cui non ci sono più quei sopravvissuti degli orrori del nazifascismo sia importante durante la prima votazione del presidente della repubblica alla camera ho avuto il piacere di incontrare e di parlare con liliana segre a liliana segre ho detto grazie grazie perché attraverso le sue parole attraverso il suo racconto riesce ad arrivare a tante ragazze a tanti ragazzi allora hanno il compito quello di essere amplificatori della memoria perché quello che è accaduto non accada mai più perché quelle violenze quelle aberrazioni che hanno segnato la vita di milioni di cittadini della nostra Europa non accadano mai più nel presente è una sfida di tutti una sfida collettiva e lancio solo un grande messaggio a tutti noi non giriamoci mai dall'altra parte non siamo mai indifferenti perché attraverso l'indifferenza possono nascere le più grandi violenze io nel mio intervento delineato quella che è stata la storia della shoah di questo folle ma umano purtroppo percorso di persecuzione e di tentativo di sterminio totale degli ebrei d'europa è stata una vicenda che ha travolto l'intero continente con alcune limitate eccezioni e che ha avuto qualche cosa di in fondo di abbastanza simile all'epidemia a quelle di colera oa quella del covi da attuale ed era basata sull'antisemitismo sull'odio verso gli ebrei per il semplice fatto di essere ebrei quindi verso tutti verso i bambini verso gli anziani verso i lattanti verso gli adulti ha toccato anche l'italia con tempi specifici legati all'esperienza del fascismo e nell'autunno del 1943 che mussolini decide di implementare la deportazione per verso l'assassinio dall'aula si è levato forte il messaggio dei vari rappresentanti politici a partire da rene galletti del movimento 5 stelle e vincenzo ceccarelli del pd mentre stefano scaramelli italia viva ha chiesto che il consiglio si costituisca parte civile nella vicenda del ragazzo ci si chiede ancora troppo spesso se sia ancora così indispensabile avere giorni come il giorno della memoria in cui si ricorda un episodio si ricordano una parte della nostra storia una parte della storia europea con cui l'europa stessa ancora oggi fatica a fare i conti la risposta è nell'episodio che è accaduto nei giorni scorsi contro il bambino che è stato aggredito a campiglia marittima per le sue origini ecco la risposta è quello sì è indispensabile è indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia conoscerla fino in fondo perché non si ripetano più questi episodi e soprattutto perché non si commetta un errore molto grave che è quello di accomunare tutti i totalitarismi tutti gli episodi terribili tutti gli eventi drammatici che la storia europea e direi mondiale è conosciuto perché solo dalla conoscenza profonda delle radici di questi fatti si riesce a trarre gli antidoti per il giorno di oggi ma quello che è accaduto conferma che è giusto ricordare il più grande dramma che ha colpito l'umanità vale a dire la Shoah l'olocausto per rinnovare il nostro impegno affinché quei fatti non accadano mai più e non possiamo assolutamente dare per scontato che i razzismi le discriminazioni le violenze alimentate da sentimenti di odio e di indifferenza siano battuti anzi come abbiamo visto purtroppo sono sempre pronti a riemergere anche in una terra che è la terra dei diritti e della civiltà che si chiama Toscana quello che è accaduto è sicuramente un episodio che va condannato la nostra vicinanza la nostra solidarietà alla famiglia al sindaco che prontamente a dimostrazione di quali sono gli anticorpi presenti e vivi ha anche organizzato una fiaccolata per manifestare la condanna, lo sdegno e appunto la solidarietà a questo ragazzo che ha subito questo atteggiamento di aggressione e di discriminazione Una seduta solenne che ho avuto l'onore di presiedere una seduta che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica alla memoria ovviamente del crimine più grande commesso dall'uomo contro l'uomo una seduta che ho voluto aprire ricordando e denunciando i fatti successi ieri nelle giornate precedenti a quella della giornata della memoria in merito ai fatti accaduti nel Livornese perché quello che è successo è molto grave, l'abbiamo denunciato abbiamo chiesto qualora possibile al Consiglio regionale di costituirsi anche parte civile perché la Toscana è terra di diritti, è terra di solidarietà, è terra di rispetto e quanto è successo da due ragazze di 15 anni al cospetto di un ragazzino di 12 anni chiede giustizia, il concetto di giusto è un concetto importante molti ebrei sono stati uccisi, deportati e la memoria di un Consiglio regionale che deve ricordare quanto è successo è impossibile comprendere quello che è successo ma è impossibile dimenticare dobbiamo ricordare quanto è avvenuto questo che è il crimine più grande commesso dall'uomo e credo che noi, la nostra terra, la Toscana, non possiamo far altro che denunciare quanto è successo ma stare vicini al ragazzo, alla famiglia Stessa linea di pensiero tenuta tra i banchi del centrodestra con Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia ed Elisa Montemagni della Lega che hanno posto l'accento sull'esigenza di intervenire sull'attualità cercando di portare un messaggio di pace contro tutte le discriminazioni La giornata della memoria è uno dei momenti in cui siamo sostanzialmente sollecitati a ricordare però ci rendiamo anche conto, e lo vogliamo sottolineare con maggiore forza come se non bastasse la cronaca, se non bastasse la storia contemporanea c'è una necessità strettissima di cercare di portare il messaggio di questa giornata nell'attualità, nella quotidianità tra tutti i conflitti e le guerre che sono in corso e che ancora sono basate quando non sull'etnia, sulla classe sociale di appartenenza o sulla religione c'è l'esigenza di capire sostanzialmente che cosa si è verificato in Europa non soltanto durante e dopo la Shoah, nell'immediatezza della liberazione dei campi di sterminio ma come fu possibile arrivare a quei momenti capire come la comunità internazionale in quel momento si comportò e come ci stiamo comportando oggi di fronte a situazioni che sono sostanzialmente se non alla pari, ma rischiano di essere sostanzialmente l'anticamera di stragi più silenziose che silenziose sono soltanto perché non sono filmate non sono sotto l'attenzione dei media o della politica internazionale e sotto questo aspetto va letto anche l'incidente gravissimo di Campiglia Marittima questo antisemitismo risorgente che registriamo nella comunità internazionale che sostanzialmente porta con sé ancora i pregiudizi nei confronti dello Stato di Israele Ovviamente si rende ancora più importante oggi questa giornata perché è giusto evidenziare la cultura della memoria contro la cultura dell'odio quello che è successo a Campiglia Marittima deve trovare la condanna di tutta la politica ma io direi di tutte le istituzioni, dei cittadini tutti perché è inaccettabile quello che si è verificato e dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi ma anche sulle persone adulte affinché si capisca fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza e ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale direi ed è evidente che non trova giustificazioni quanto abbiamo letto stamani quanto abbiamo visto succedere proprio a casa nostra tra l'altro la Toscana è una regione dove la solidarietà e la pace sono sempre un baluardo e quindi riteniamo che sia importante correre ai ripari e magari cercare di capire anche laddove si può potenziare la comunicazione, l'informazione e magari anche l'istruzione dei nostri ragazzi per evitare che quello che si è verificato in queste ore non succeda più Il Consiglio regionale al fianco della musica inteso come impegno a valorizzare l'educazione musicale e il canto corale per farlo l'Assemblea Toscana ha messo a disposizione 150.000 euro la somma erogata verrà ripartita in maniera proporzionale al fabbisogno delle associazioni rappresentative a livello regionale di questi due settori, quello delle bande musicali e quello delle musiche d'accordo che avranno un ruolo fondamentale nella fase procedurale di assegnazione dei fondi Con questa legge il Consiglio regionale, attraverso la concessione di contributi in una tantum per l'anno 2022 prevede il sostegno finanziario di realtà associative che svolgono un importante ruolo di diffusione della cultura musicale a livello territoriale e che hanno subito lunghi periodi di inattività a causa dell'emergenza pandemica con conseguenti difficoltà di carattere economico La proposta di legge ha ricevuto l'appoggio unanime dell'Aula A questo proposito soddisfazione è stata espressa da Cristina Giacchi e Luciana Bartolini rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione Cultura In concreto il Consiglio regionale ha oggi destinato oltre 2 milioni dei fondi di accantonamento del proprio bilancio e la prima PDL, la 94, ne ha assegnati 150 mila per un investimento Unatantum nelle attività delle bande e dei cori musicali Le bande musicali e cori sono attività che hanno una forte attenzione sui territori che vedono due associazioni sul territorio regionale che raccolgono tutte le istituzioni, gli enti, le associazioni interessate e che collaboreranno con l'Ufficio di Presidenza e con il Consiglio regionale per distribuire questo finanziamento che vorrebbe sostenere le attività dopo un biegno di forte difficoltà dovuto anche al Covid in cui queste attività culturali nelle quali le nostre comunità territoriali si riconoscono e che sono molto seguite diciamo hanno avuto una battuta d'arresto Ecco, noi speriamo che con la ripresa del post-pandemia e che con un piccolo sostegno tutte queste realtà possano continuare serenamente a svolgere il loro lavoro che è un lavoro prezioso non soltanto per l'offerta culturale che generano ma per la vitalità che portano nei territori, per l'attività che rappresentano e per i sentimenti anche di appartenenza e di riconoscimento collettivo che generano Le bande e i gruppi corali in questo periodo di Covid ovviamente hanno sofferto come tanti dello spettacolo dal vivo quindi con questa proposta di legge si cerca di dare un aiuto concreto per la loro ripartenza Questi aiuti verranno dati a due associazioni che riuniscono le bande e i cori che a loro volta li daranno su progetti alle singole bande e ai singoli cori Ovviamente la Giunta poi dovrà avere i resoconti che i progetti siano stati portati a termine